Come va? Vi state divertendo? Vi sta piacendo? Spero di sì. Spero che se vi sta piacendo verrete anche a trovarci all'evento di Milano. Ok. Sono... Grazie. Ok. Di cosa vi voglio parlare oggi? Più o meno sapete gli argomenti di cui parlo di solito. Vi voglio parlare di functional programming, però anche di object-oriented programming. Voglio comparare un po' le due cose, ma più che altro far vedere che non sono antitetiche, che possono facilmente coesistere, ha senso che coesistano nella vostra object-based. Probabilmente avete visto... Sta succedendo qualcosa. Scusa. Va avanti di qua, ma non di là. Ok. Un attimo, eh. Ok, scusatemi. Probabilmente avete visto questo gioco, diciamo scherzo, qualche volta, ovvero questo confronto tra i vari pattern e best practice che usiamo in OOP e tutto quanto, se ci pensate, può essere ridotto a delle funzioni, funzioni di alto livello e funzioni ancora. Ok. E in realtà, se eravate qui l'anno scorso, vi ricordate che ho fatto pure io qualcosa di simile. Il mio talk era... Ho preso tutti i pattern, una gran parte dei pattern della gang of four, nella loro versione originale, quello object-oriented, e ho provato di riscriverli in maniera un po' più concisa, usando il functional programming. Quindi, diciamo, pur io ho messo in pratica la stessa idea. Ok. In realtà, mi sono accorto che facendo così, forse è dato un po', stiamo dando un po' il messaggio sbagliato. Cioè, stiamo creando una falsa dicotomia. E purtroppo, in questo periodo storico, viviamo in un mondo di falsa dicotomia. Ok. Quindi, gli interessi dei mercati sono totalmente diversi e in contrapposizione con gli interessi dell'agente comune. Gli interessi dei locals sono in contrapposizione con quello dei migranti. Quindi, se aiutiamo i migranti, stiamo danneggiando i locals in qualche modo, o viceversa. Gli interessi nazionali sono in contrasto con gli accordi internazionali. Quindi, dobbiamo scegliere fra uno delle due, se vogliamo essere europeisti o nazionalisti. Oppure, il progresso industriale è in contrasto con la qualità del nostro ambiente. Quindi, ci hanno dato tutto questo ambito. C'è un sacco di dialettica politica attorno a questi concetti. Ci hanno detto che bisogna scegliere tra la gente comune dei mercati, tra il nazionalismo e l'europeismo, tra l'ambiente e l'industrializzazione. Non è vera questa cosa qua. Sono forse dicotomie. Il problema qual è? Che quando ci chiedono di scegliere tra A e B, il nostro cervello è pigro. Ci hanno chiesto di scegliere tra A e B e noi scegliamo tra A e B. Ma non ci viene in mente che c'è una soluzione C. O più probabilmente, non ci viene in mente che in realtà dobbiamo trovare il giusto mix di percentuale tra A e B. O meglio ancora, che A e B, invece di entrare in contrapposizione, possono entrare in risonanza e possono aiutarsi in un lato, possono creare delle sinergie. Il sud Italia si sta spopolando totalmente e con gli immigrati si può ripopolare. Gli immigrati ci pagano le pensioni. Esempi così, nell'industria abbiamo la green economy, quindi non è vero che queste cose sono in contrapposizione. Ci sono delle sinergie. Non dobbiamo ragionare A o B. Meglio entrambi, ok? E se ci pensate, noi facciamo la stessa cosa quando progettiamo il nostro software e quando lo implementiamo. Siamo posti davanti a delle scelte e decidiamo di andare A o B. Però non è così. Non è che dobbiamo per forza scegliere tra database relazionale e database no sequel. Magari abbiamo delle esigenze diverse in due aree del nostro codice e in un'area possiamo fare una scelta, in un'area un'altra e possiamo mettere le due cose insieme. Non dobbiamo scegliere tra l'architettura monolitica oppure tra un microservizio dove ogni microservizio implementa un metodo Java. C'è qualcosa nel mezzo e dobbiamo scegliere il giusto confine dove vogliamo metterci. Oppure adesso, come sapete, chi mi conosce lo sa, io lavoro su Drulz che è il rule engine di Reddet, però in questo periodo i rule engine non sono tanto fighi. Quello che è fighi sono le reti neurali, il deep learning e cose così. Ok? Però le due cose non sono in contrapposizione, potrebbero essere complementari l'un l'altro. Vi faccio un esempio. La settimana scorsa ho comprato un tablet su Amazon, dopo due giorni Amazon mi dice ok, hai comprato il tablet X, potresti anche essere interessato ai tablet A, B e C. Ok? Ma quando è probabile che dopo aver comprato un tablet, dopo due giorni me ne voglio comprare un altro? Perché succede sta roba? Perché c'è un'analisi statistica alla base e ovviamente gli algoritmi statistici hanno visto che c'è una correlazione altissima tra il tablet A e il tablet B. Però basterebbe mettere un rule engine a valle con una regola fessa, se questo si è comprati il tablet non gliene proporre un altro e eviteremo questo problema. Quindi come vedete, sfruttando queste sinergie, usando la complementarietà di queste tecnologie, possiamo arrivare a soluzioni migliori. Ed ovviamente l'argomento è... Spoiler! Probabilmente la prossima volta vi parlerò più in dettaglio di questa roba qua. Ma l'argomento di stavolta invece è... Vogliamo usare Object Oriented, allora il Functional Programming non lo siamo. Oppure viceversa, no, il Functional Programming è dove vogliamo andare, l'Object Oriented non lo vogliamo vedere più, ok? Perché ragioniamo in questi termini? Prima cosa ci sono un po' di miti da sfatare. Siamo abituati a pensare all'Object Oriented come sta roba qua. che probabilmente aveva senso vent'anni fa, trent'anni fa e non è più così. Perché poi se partiamo a disegnare questi pattern ci troviamo in questo modo di pensare. quindi creiamo i nostri oggetti con le factory e poi le factory builder e poi i provider e poi tutta questa infrastruttura che probabilmente spesso non... Ah, quantomeno è sovra-ingegnerizzata. Però i pattern ci hanno incanalato in quella forma Mendis di dover lavorare in quel modo che probabilmente non è sempre quello più corretto, ok? E in realtà il papà dell'Object Oriented Programming ha detto un po' di tempo fa sì, io ho coniato il termine Object Oriented, ma di sicuro non è C++ quello che avevo in testa. E se ci pensate, Java è solo un C++ con un po' di sintacchi sugar, in un ambiente managed e con il garbage collector. Questo è Java, niente di più, ok? E in realtà io penso che come è stato implementato l'Object Oriented rispetto a come è stato pensato dai suoi creatori è uno dei più grandi misunderstanding della storia dell'ingegneria, ok? Ma loro avevano, Alan Kea aveva una roba in mente che è stato implementato in Small Talk che è stato totalmente travisato. Adesso quello che facciamo in realtà non è tanto Object Oriented, ma è Class Oriented Programming. Questo è quello che facciamo in C++ o in Java, ok? Ma in realtà in Small Talk, l'idea di base da cui erano partiti è che c'è un oggetto che mantiene un proprio stato questo stato è totalmente privato e quello che succede è che gli oggetti cooperano tra di loro scambiandosi messaggi, ok? Che se ci pensate, se lo conoscete questo è esattamente quello che fa l'Hector Model, niente di più, ok? Quindi non c'è uno stato condiviso ma ogni oggetto è proprietario del proprio stato e quello che si fa è che gli oggetti cooperano con lo scambio di messaggi, è l'Hector Model, niente di più. Ok? Quindi ci sono un po' di miti riguardo all'Object Oriented Programming che rivisti, diciamo, 20 o 25 anni dopo il libro della Gang of War possono essere un attimino ripensati allo stesso modo ci sono un po' di miti riguardo al Functional Programming il Functional Programming è una cosa nuova è il nuovo modo di lavorare non c'è niente di nuovo l'Object Oriented Programming c'è 50 anni, il Functional Programming c'è una quasi 90 è più vecchio dei computer ok? E anche SQL è più vecchio di Java se ci pensate ok? Altro mito il Functional Programming è ben definito quando io parlo di Functional Programming so di quello di cui sto parlando non è vero perché anche qui c'è uno spettro molto ampio che va dalla singola Lambda Expression a avere tutto il nostro codice definito in una forma con un formalismo matematico e c'è un sacco di ci sono un sacco di scale di grigio nel mezzo ok? Functional Programming è l'opposto di OP non è vero sono due tecniche complementari possono tranquillamente cooperare il Functional Programming è difficile pure questo non è vero e questa sensazione viene dal fatto che per 20 anni o almeno io per 20 anni ho fatto Object Oriented Programming la mia forma Mentis è incanalata in quel modo di pensare di sviluppare software chiaramente se da lì inizio a fare Functional Programming mi sembra più difficile ma non perché è più difficile è solo meno familiare tutto qua e il Functional Programming è meno efficiente dipende ok? è vero che col Functional Programming soprattutto in un ambiente memory managed come Java si tende a creare un sacco di oggetti più e quindi a mettere più sotto pressione il garbage collector però quello non ottimizzare questo tipo di cose non dovrebbe essere tanto il compito dello sviluppatore ma quando il compito del compilatore è di generare del codice un po' più smart che ne so tipo utilizzando la telrecursion gestendo la memoria in maniera diversa ma non deve essere il compito dello sviluppatore ok? quindi non è che il Functional Programming è meno efficiente probabilmente fino adesso abbiamo sviluppato dei tool che sono un po' meno raffinati in quell'area lì il Functional Programming va bene solo per la matematica so in un ambiente bancario facciamo le le addizioni le divisioni e uso e uso ESC e altrimenti no pure questo non è vero c'è il Functional Active Programming che è perfetto per implementare una graphic use interface reattiva ok? o sono 100% Functional o non sono Functional non è vero anzi vorrei dimostrare proprio il contrario con questo tool c'è come vi dicevo un un compromesso tra questo e l'object oriented ok? il Functional Programming risolve tutti i problemi questo è il mito più grosso no non è vero se siete dei cani a programmare sarete dei cani pure a scrivere Functional Programming in Functional non c'è niente da fammi dispiace ok? quindi ripensiamo un attimino i miti che abbiamo creato attorno a questi due paradigmi cerchiamo di ripartire dalle definizioni ok vi ho parlato di small talk prima di come era stato pensato l'object oriented programming ma poi come sapete abbiamo un po' deviato e adesso quello che intendiamo quindi quello di cui vi parlo oggi e quello che intendiamo oggi per object oriented programming che è un oggetto con dei field e con dei metodi con cui io posso operare su questo oggetto ok mentre il functional programming tratta la computazione come una composizione di valutazione e composizione di funzioni matematiche e quindi essendo funzioni matematiche sono immutabili e non c'è e appunto non c'è non c'è lo stato che cambia ok quindi in realtà qual è la differenza da un punto di vista puramente sintattico la differenza potrebbe essere questa qua che ovviamente è una differenza totalmente fittizia deriva semplicemente dal fatto di cui del modo in cui siamo abituati a lavorare con con questi strumenti ok quindi da una parte chiamola il metodo f sull'oggetto o dall'altra parte o è l'argomento che io passo alla funzione f ma in realtà sta roba è solo ripeto è solo una convenzione sintattica forse il modo di scriverlo giusto è quello alla lisp cioè f e o sono due cose che io metto insieme i dati e l'implementazione di come voglio manipolare quei dati li metto insieme sono entrambi i dati e stanno allo stesso livello ok e questo è vero è il principio per esempio con cui se ci pensate funziona l'algoritmo originale di MapReduce di Google qual è stata l'idea lì se posso vedere dati e computazioni come due cose allo stesso livello interscambiabili fra di loro e posso scegliere se spostare un terabyte di dati o una funzione da 100 byte se posso scegliere quale dei due voglio spostare sposto la funzione ok se invece penso alla computazione come qualcosa che sta lì su quella macchina e ai dati come una cosa diversa che è l'unica cosa che posso spostare non arriverò mai non arriverò al MapReduce ok quindi queste due rappresentazioni in realtà sono la stessa cosa a parte di un dettaglio che è il dettaglio più importante che è la caratteristica più importante dell'Object Orientation ovvero il polimorfismo ok quindi il polimorfismo è a mio parere l'unica caratteristica rilevante dell'Object Oriented rispetto al Functional Programming è l'unica cosa che che in Functional Programming non riuscirete a fare ok e cerchiamo di capire di cosa sto parlando parliamo di di decomposizione qui che cosa che esempio volevo portare abbiamo dei dati e abbiamo delle operazioni che vogliamo eseguire su questi dati ok quindi dai miei dati possono essere di tre tipi possono essere un intero un'addizione oppure la negazione e le operazioni che ci posso che ci voglio fare su sono in questo caso eval toString per crearne la stringificazione è un è un altro dato che mi dice se se quell'operazione ha uno zero o no ok quindi come faccio ci sono due modi per implementare questa decomposizione il modo object oriented è quello di andare per righe per righe in questa tabella che vuol dire andare per righe che io piglio un oggetto è una classe e implemento i tre metodi elencati sulle colonne dentro quella classe ok tutto qua in functional programming invece vado per colonne cosa faccio implemento una funzione e quella funzione può ricevere uno di questi dati qua e quindi quello che farò tipicamente è fare pattern matching quindi se ho un intero farò una cosa se ho un'addizione ne farò un'altra ok quindi questa è la differenza tra quello che intendiamo con object oriented decomposition e functional decomposition qui lo semplicemente implementate quindi ok ho un'interfaccia che viene implementata dai miei tre oggetti di dominio e quindi i miei tre oggetti di dominio implementano quei tre metodi che vi dicevo ok la la alternativa funzionale è quella che vi dicevo ok qua ho usato una catena distance off perché fino a che non avremo il pattern matching in java quello ci abbiamo sperabilmente in java 12 forse avremo qualcosa e quello che si fa è tipicamente ok questo è il pattern matching dei poveri però insomma quello che si fa è fare distance off sui vari tipi di oggetti e fare una roba diversa secondo del tipo di oggetto che mi è stato che mi è stato passato qual è la differenza fra queste due chiaramente java è più è un linguaggio noto obgetto oriented quindi la prima versione sembra più naturale ma questo dipende solo esclusivamente dalla sintassi di java quindi non vi dovete focalizzare su quello è che la sintassi di java è più adatta a fare quel lavoro là ma quello su cui vi dovete focalizzare che l'object oriented ha una cosa importante che è l'indipendenza degli oggetti dal dominio di computazione cosa voglio dire che se c'è un'altra espressione che non sta in questo jar in questo dominio ma sta in un dominio esterno che importa questo qui questo dominio non dovrà dipendere da quello lì quindi se c'è un'altra operazione in un'altra dipendenza questa qui non dovrà dipendere da quello ok qua invece non è così perché se io voglio codificare qui dentro la nuova operazione purtroppo dovrò avere una dipendenza in più perché dovrò avere una dipendenza in più perché io lo devo codificare qua dentro cosa succede in caso mi arriva quell'oggetto e siccome devo farlo devo avere una dipendenza del mio codice dalla libreria che contiene quell'oggetto quindi questa è la differenza principale ok quale delle due è meglio ovviamente solita domanda di prie meglio A meglio B dipende dipende da quello che state facendo questa è il mio è la mia opinione personale però ognuno ha fatto esperienze diverse a mio parere se state per esempio scrivendo un interprete magari è più naturale usare la decomposizione funzionale se invece state scrivendo una GUI ogni oggettino ogni oggettino che appare sulla user interface al suo comportamento quindi probabilmente in quel caso lì è più comoda la decomposizione oggetto-orienti ovviamente come al solito sono strumenti bisogna conoscere entrambi per evitare di pigliare la vite a martellate perché il martello è l'unico strumento che ho è il solito discorso ok siccome ho parlato di decomposizione allora poi dopo mi è venuto naturale ok ho parlato di decomposizione forse dovrei dire pure qualcosa sulla composizione lì però a dirvi la verità ho avuto un po' più di difficoltà perché per composizione di funzioni e composizione di oggetti intendiamo due robe totalmente diverse e non confrontabili cioè quello che intendiamo per composizione funzionale è chiaro se sto componendo le funzioni f e g il risultato sarà un'altra funzione che l'applicazione di f e poi dopo l'applicazione di g quello che cosa è la composizione funzionale è ovvio in in obgetto orienti invece quello che chiamiamo composizione è fatto è fatto di due paradigmi due meccanismi principali uno è l'editarietà che può creare dei mostri se se ne abusa di solito giustamente viene consigliato invece di di usare di preferire l'uso dell'associazione quindi io associo gli oggetti A e B per farli cooperare insieme il modo principale per per implementare questa associazione ovviamente è con la dependence injection qualche volta quello che viene iniettato non è proprio la cosa giusta però il però il il concetto è quello lì ok quindi sono due concetti davvero non confrontabili secondo me ok vi ho detto qual è il vantaggio principale dell'object oriented parlando invece di programmazione funzionale chiaramente la prima cosa che salta all'occhio è l'immutabilità quindi di questo forse già vi ho parlato vi ho parlato in passato ma ci vado velocemente perché preferiamo l'immutabilità perché abbiamo gratis il thread safety e quindi abbiamo gratis la parallelizzabilità nel senso che siccome non c'è uno stato che cambia non ho due thread che possono cambiarlo concorrentemente e possono pestarsi i piedi l'uno con l'altro siccome questi oggetti non cambiano mai posso cacciarli senza avere il problema di decidere quando la cache è stale e devo invalidarla è più facile ragionare su oggetti immutabili e quindi ho un vantaggio anche da un punto di vista di validazione del mio codice posso essere più confident che il mio codice è corretto è più è più facile anche controllare che sia consistente e se è immutabile probabilmente anche meglio incapsulato ok nel senso che gli oggetti possono essere passati per referenza per valore non mi fa nessuna differenza ok quindi la differenza principale tra oggetto oriented e functional programming è che il primo cerca di dominare la complessità incapsulando la mutabilità il secondo invece cerca di evitarla totalmente ok questo però non vuol dire assolutamente non c'è scritto in nessuna parte che se uno fa oggetto oriented deve usare la mutabilità uno può fare oggetto oriented può usare il polimorfismo come vi ho fatto vedere nelle slide precedenti ma usarli usando oggetti immutabili quindi le due cose sono totalmente ortogonali non c'è niente che vi dice che una esclude l'altra il passo successivo all'immutabilità è la trasparenza referenziale che vuol dire semplicemente vuol dire che se ho un'espressione e la valuto la valutazione di quell'espressione non ha nessun side effect e quindi in qualsiasi momento io posso rimpiazzare il risultato della valutazione di quell'espressione col valore stesso ok quindi non devo riapplicare quell'espressione perché l'applicazione di quell'espressione non ha nessun effetto collaterale di cui io sarei interessato all'esecuzione e se ciò è vero vuol dire che io posso invece di chiamare l'espressione n volte posso per esempio che c'è il mio risultato e riutilizzare quel risultato quante volte voglio ok l'esempio canonico per dimostrare la differenza tra queste due cose è la comparazione tra lo string e lo string builder come sapete in Java la string è immutabile lo string builder no quindi se fate queste due sequenze di operazioni su uno string e uno string builder e poi provate in entrambi i casi a rimpiazzare a rimpiazzare l'applicazione del metodo dell'espressione con il valore stesso con la string funziona perché è immutabile quindi l'operazione che state facendo ha la trasparenza referenziale se lo fate con lo string builder non funziona più perché lo string builder ha un stato interno voi lo state mutando e quindi se cambiate la reference con l'applicazione quello che vi succede è che avrete questo effetto qui ok perché la trasparenza referenziale è importante perché appunto non ci sono side effects e questo da una parte da sviluppatori aiuta voi a ragionare sul vostro codice potete usare quello che si chiama il substitution model ovvero potete sempre nella vostra testa almeno ragionare sul codice sostituendo all'espressione il valore che quell'espressione avrà in quel caso particolare e in più c'è anche un vantaggio a livello di performance perché la virtual machine può fare delle ottimizzazioni in più ancora una volta non avete mutabilità quindi è tutto trace safe non avete bisogno di fare sincronizzazioni e usando questa tecnica in più avete un codice che è cache friendly potete cacheare sempre il risultato senza dovervi preoccupare di invalidare la cache per esempio ok quando parlo di trasparenza referenziale e di assenza di side effect questo ha delle implicazioni che non sono sempre evidente per esempio in realtà cosa fa questo metodo come sapete questo metodo della classe integer prende una stringa la parsa e mi ritorna un intero ok quindi dovrebbe essere la cosa quanto più referenzial trasparente possibile nel senso che ogni volta che io parso una stringa ottengo sempre lo stesso risultato quindi è inutile che parso continuamente la stessa stringa dovrei potermelo cacheare ok cosa c'è invece di sbagliato in questa signature a mio parere c'è di sbagliato che si sta abusando dell'eccezione ok un'eccezione bisognerebbe usare un'eccezione in casi eccezionali ok però non è una cosa eccezionale che io una stringa non la posso far diventare il numero è più o meno la normalità ok per la maggior parte delle stringhe succede questa roba qua in realtà non è una cosa eccezionale quindi però qual è il problema che se io mi tengo questa signature qua non posso usare la memoization non posso usare il caching perché se parso una stringa che non può essere trasformata in un numero mi beccherà un'eccezione quindi non c'è nessun valore da cacheare se io invece trasformassi questa signature in questa dicendo ok otterrò forse se io forse non ho un intero a seconda a seconda se la stringa può essere trasformabile in un numero o no in questo modo io sono libero a questo punto di memorizzare il valore che è stato calcolato per una stringa e di utilizzare sempre quello ok quindi pure lanciare eccezioni rompe la trasparenza referenziale pure lanciare eccezioni è un side effect che non vogliamo ok e in effetti un altro dei difetti dell'object oriented come siamo abituati a usarlo è l'abuso esagerato di eccezioni abbiamo dei casi che ripeto non sono eccezionali tipo una stringa che non può essere passata in un numero è una cosa normalissima non è un caso eccezionale non c'è un errore da cui fare recovery a parte che probabilmente sta storia che uno poi becca in eccezione fare recovery a parte fare print stack trace o loggare o non so poi o tenere i catch block vuoti così ciao a parte sta roba qua non ho visto mai nessun nessun utilizzo ragionevole o quasi mai nessuno utilizza ragionevole dei catch block nel codice ciao quindi quelle che sono le eccezioni in realtà o la maggior parte di loro in realtà sono solo go to on steroid ok go to a 20 livelli di stack più giù questo è ovviamente ripeto ci sono delle eccezioni non è bianca e nero certe volte ha senso ha senso molto meno volte di quando normalmente vedete in un in un codice java ok cambia un attimino argomento parliamo di di un altro confronto questo se c'eravate al talk di lucas esattamente la la slide che ha fatto vedere pure lui giocando con gli stream un po' di anni fa ho cercato di iniziare a confrontare la la parte di capire come usare meglio il fatto che con il functional programming potete programmare in maniera dichiarativa e quindi mi era venuto in mente questo esempio e cosa volevo sottolineare con questo esempio non solo e non principalmente che la parte functional è più compatta ma la cosa importante è che c'è una separation of concern migliore nel senso che la parte rossa è quella che mi gestisce l'apertura e l'attraversamento del file che qui è sparsa un po' in giro la parte verde è quella che mi accumula le righe di errori nella lista eccetera eccetera ok scusate l'ho dato per scontato forse non dovevo l'intento di questi due blocchi di codice che fanno esattamente la stessa cosa è quello di passare un file di log e trovare le prime 40 righe di error ok le prime 40 righe che iniziano con error questo è lo scopo di questi due pezzi di codice quindi in questo caso è evidente quale dei due funziona meglio quale dei due è più comodo da usare è anche più facile da manutenere forse e quindi ho trovato il mio codice bellissimo e quello lì lo voglio scrivere in quel modo là poi arriva qualche rompi qualcuno che mi rompe le uova nel paniere e dice ma possiamo aggiungere una fissura piccolina che è come mettere la caramella mentos dentro la bottiglia di coca cola no c'è simone qua simone non c'è vabbè insomma quello che ha buttato la mentos nella coca cola è simone bordese se 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 volete prendete il pavolo con lui ma insomma il requirement di simone ok mi stai dando le 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 40 righe d'errore ma per me non è informativo di abbastanza per ogni riga d'errore vorrei vedere pure nel log la riga immediatamente precedente che se ci pensate non è un requirement così così assurdo no e se se la vogliamo se vogliamo cambiare la versione object oriented per implementare questo requirement tutto sommato le cose non sono così complicate nel senso che mi posso tracciare in un'altra variabile quale è la riga precedente rispetto a quella questa attraversando le metto insieme e insomma ho fatto una piccolissima modifica all'algoritmo precedente e ho e tutto funziona e l'ho reimplementato come mi è stato chiesto functional version non è proprio così banale da fare soprattutto dato java ma poi verbositate la sintassi a parte manco in altri in altri linguaggi funzionali viene così bene perché adesso ho questo effetto che mi devo trascinare non solo lo stato non solo della riga che sto passando in questo momento ma anche di quella prima quindi ho cercato di cambiare la versione funzionale sono venuto fuori con questa prima soluzione questa prima soluzione quello che fa è passare una volta il file una volta tutto il file quindi qua c'è una terminal operation dello stream sto passando tutto il file una volta e sto creando le coppie di linee ok e poi dalle coppie di linee è facile filtrarle e tirare fuori le coppie che rispettano quella condizione che dicevo io però qual è il problema ovviamente qui non è proprio bello dal punto di vista funzionale perché sto usando la mutabilità e l'altro problema è che mi sto passando tutti i file in memoria una volta e poi devo riattraversare la struttura dati che mi sono creato quindi non è manco troppo efficiente la seconda versione è un po' più carina per qualche motivo non c'è un modo per fare lo zip di due stream cioè pigliare a coppie gli elementi dei due stream e creare uno stream con queste coppie però è abbastanza facile scriversi una funzioncina che lo fa tipo questa quindi c'ho due stream che voglio accoppiare c'ho una funzione che crea un oggetto C risultando dell'accoppiamento di un item di A e di un item di B ok data questa funzioncina quello che posso fare è avere due stream uno che parte con un con un slot vuoto con una riga vuota di modo che crea un offset ok e quindi poi attraverso di nuovo tutte e due due volte quindi come vedete pure qui non è efficiente attraverso due volte il file uno con l'offset e uno senza creare queste coppie con questa funzione di zip e poi il resto è quello che conoscete quindi cosa vi volevo dimostrare con questo sì in teoria è vera la soluzione functional era più bella era più manupetenibile nel senso che se volevo cambiare da 40 e 50 sapevo esattamente il punto dove andare non me lo dovevo andare a cercare tutto vero però se mi cambiano un po' di più se mi cambiano un po' di più requisiti certe volte le cose non vanno così lisce e la soluzione si trova però quello che c'è da notare è che con la soluzione object oriented ho cambiato qualche cosina rispetto alla soluzione originale e tutto è andato a posto con la soluzione funzionale invece ho dovuto reinventarmelo da capo me lo sono dovuto praticamente riscrivere da capo quindi ripeto ci sono queste dicotomie che però non sono vere e proprie dicotomie basta trovare il giusto mezzo tra le cose potete in certi casi usare la decomposizione funzionale in certi altri all'object oriented potete mischiare mutabilità e immutabilità con grano salis dovreste poter quasi sempre evitare le eccezioni e invece usare dei dati che incapsula ne ha dato stesso il fatto che una certa operazione potrebbe andare male o bene e anche decidere se usare la programmazione imperativa o quella dichiarativa contiene un trade off ci sono ancora altre dicotomie che potrei discutere velocemente stateful versus stateless l'utilizzo di thread invece di future a usare statement invece di espressioni e iterazioni invece di ricorsioni ok giusto per fare una carrellata ancora veloce di queste false dicotomie ancora quello che volevo fare qui ho una funzioncina che mi ritorna vabbè qui non ho implementato i metodi ma insomma questo metodo qua scusate questo metodo qua mi dà il prezzo in dollari di questo prodotto questo metodo qua invece mi converte dalla currency 1 o dalla currency 2 ok e quindi se io voglio il prezzo se io voglio il prezzo in in euro o in franchi di questo prodotto quello che devo fare è caricare prendermi il valore del prodotto e moltiplicarlo per il conversion rate ok tutto qua questa è la è la versione diciamo plain facile single thread poi qual è l'idea che ci viene ok ma molto probabilmente se devo andare a leggere il prezzo di un prodotto lo devo andare a leggere da un database ci metterò un po' se devo trovare il fattore di conversione tra due monete diverse probabilmente dovrò chiamare un servizio esterno ci metterò un po' allora cerchiamo di rendere asincrone queste due cose perché sono due cose indipendenti fino al momento in cui devo operare la moltiplicazione cerchiamo di renderla sincrone di modo che vanno in parallelo e velocizzo quasi del doppio l'esecuzione di questa operazione la versione object oriented pura è ovviamente un po' un po' tirata per i capelli se volete ma è questo in realtà che fate usando lo stato lo stato mutabile qui avete il risultato avete una funzione che processa il risultato cioè che moltiplica il risultato per uno per l'altro e quello che fate è che qua in realtà dovremo partire da uno non da zero questo è un errore che sto notando adesso ok lo metto a posto ma insomma partendo da da uno quello che fa un thread e chiamare process result per tirare fuori il fattore di conversione tra le monete l'altro è quello che fa il prezzo e però quando ovviamente mettete insieme i risultati i due thread non si devono pestere i piedi e quindi ovviamente dovete sincronizzare quell'operazione lì ok quindi dovete sincronizzare lo stato è una cosa veramente tricky come credo tutti di voi sapete se ci avete provato il problema qual è che tutti questi stati nel nostro codice sono tutti collegati fra di loro e non si vedono i confini come ha detto Armstrong un po' un po' di anni fa il problema è che volete solo la banata ma vi portate appresso la banata il gorilla che la tiene e tutta la foresta dietro che è quello che tipicamente succede quando abusate della mutabilità il problema vero non è la mutabilità è la mutabilità condivisa tra più tre che è esattamente quello che sta succedendo qui ok quello che invece fate tipicamente con la programmazione funzionale quindi potete usare i computable future da Java a Timboi per ottenere questo risultato quello che fate è fate ancora una volta diciamo in maniera dichiarativa queste chiamate queste funzioni che poi genereranno dei callback quando il risultato è pronto e questi callback i risultati di questi callback verranno a loro volta moltiplicati fra di loro quindi tutto bello però poi lo sapete pure voi quando si abusa dei callback che succede ci sta anche qui il codice diventa proprio non proprio leggibilissimo quindi pure qui c'è un trade off bisogna trovare il giusto compromesso sì expression versus statement questo non è tanto una scelta che avete volevo menzionarlo giusto per completezza di comparazione però in realtà questa dipende molto dalla sintassi del linguaggio che ho usato per esempio io comunque preferisco usare le espressioni ovvero delle operazioni che tornano risultati invece che usare statement quindi per esempio preferisco quando posso quando è ragionevole quando non diventa illegibile usare l'operatore ternario invece di un if perché è un'espressione ok ultima cosa iterazione verso ricorsione questo è un altro dibattito aperto però quindi una certa cosa una lista diciamo può essere attraversata in maniera iterativa con l'iterazione esterna o in maniera ricorsiva sì se fate functional programming l'iterazione è brutta perché poi c'è la mutabilità non la fate vi dicono di usare la ricorsione in realtà quando avete un algoritmo il mio suggerimento è quando avete un algoritmo ricorsivo vedi visitate un albero usi la ricorsione altrimenti usi l'iterazione perché perché è vero è mutabile sto mutando quell'n ma quell'n è incapsulato in quel metodo là se lo chiama un altro un altro thread lo stesso metodo ci sarà un'altra n non mi sto vestando i piedi con nessuno non c'è una mutabilità condivisa probabilmente l'iterazione è più legibile di sicuro è più performante quindi se non avete un algoritmo davvero ricorsivo forse è meglio evitarlo ok l'idea quindi qual è ho trovato questo blog interessante che si intitola functional programming in small object oriented in large l'idea qual è secondo l'autore del blog ok uso il functional programming per le parti piccole quelle di computazione e uso l'object oriented come sottostrada architetturale per mettere tutte queste parti insieme ha totalmente senso per me onestamente ha senso pure il contrario ovvero uso l'object oriented della mutabilità anche quando mi serve in maniera controllata in maniera delimitata e uso il functional programming per orchestrare l'esecuzione dei vari metodi che coinvolgono questi oggetti quindi ripeto le due cose secondo me si possono mischiare davvero come volete e tenendo conto del problema che avete che state cercando di risolvere non bisogna per forza ok io sono stato sono stato e continuo ad essere un evangelist diciamo una parolaccia ma passatemela del functional programming però ripeto ho avuto la sensazione di essere stato contraddetto e ho trovato questa situazione che condivido pienamente dire che vogliamo fare 100% functional programming oppure anche il 98% del functional programming e boh idealmente corretto però in pratica è quasi impossibile tra questo e programmare come quando usavamo il basic c'è un mare in mezzo probabilmente se ci mettiamo a metà o un po' più verso il functional che l'obgetto orienti le cose funzionano meglio il che vuol dire ovvero è la traduzione di quello che dice Walter il perfect sarebbe il 100% di functional se ci riusciamo però in realtà perfect is the enemy of good cerchiamo di essere pragmatici ok bottom line object oriented più functional non deve per forza somigliare a sta roba qua e l'idea appunto è che quello che fate tipicamente con l'obgetto orienti è che avete un modo di vedere le cose focalizzate sui nomi sugli oggetti quando lavorate con functional programming avete un modo di 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 ragionare focalizzato sui verbi sulle azioni ma il vostro dominio è composto da entrambi quindi usate entrambi con grano salis dire se un linguaggio oggigiorno dire se un linguaggio è funzionale o no non c'è nessun senso cioè già è funzionale un po' sì un po' no limitatamente però non c'è nessun confine netto quindi non ha senso dire e però è importante conoscere bene entrambi i paradigmi per usarli meglio secondo me è molto più importante si parla tanto di polyglot programming cioè di usare tanti linguaggi poi però ci sta gente che usa java javascript scala coding tutto lo stesso modo sono tutti uguali invece forse è meglio fare un conoscere un linguaggio solo però usarlo sia in maniera oggetto orientale sia in maniera funzionale quindi essere poliparadigmatici piuttosto che poliglotti ok è davvero la bottom line se conoscete solo l'obgetto orientale studiate i functional se conoscete solo i functional studiate l'obgetto orientale e siate pragmatici ci sono due strumenti entrambi validi metteteli insieme pensandoci su non c'è 100% A e 100% B ok grazie come a solito sono 5 minuti ah ok se ci sono domande pensavo di essere sicuro è veramente possibile fare functional programming in un linguaggio che non supporta il telerecursion optimization possibile fare functional programming se il linguaggio non supporta il telerecursion optimization allora sì prima di tutto functional programming non implica recursion secondo me ok stiamo parlando di functional puro 100% allora forse no però ho fatto un talk non l'ho fatto qui qui a Lugano l'ho fatto a Zurico si chiama Lazy Java il talk se c'è online se vuoi vederlo l'ho fatto pure alla DevOps di sicuro c'è online praticamente faccio vedere come sostituire la telerecursion con il trampoline che puoi implementare che puoi implementare in Java in tre righe di codice quindi sì la risposta è sì altre domande? ok come al solito mi beccate offline se vogliamo farci una ghecchierata mi fa piacere grazie ancora grazie